Il tema della sicurezza al Parco delle Cascine è stato al centro della prima visita in Toscana sull'argomento del senatore della Lega Claudio Borghi che accompagnato dal consigliere regionale Giovanni Galli e dal capogruppo in comune Federico Bussolin ha incontrato i rappresentanti dei comitati della zona. Le strade che si affacciano sul grande parco, denunciano questi ultimi, sono diventate zone di spaccio e degrado in un ideale triangolo che va da via Palazzuolo all'Arno. Un tema, quello della sicurezza, sul quale la Lega vuole soprattutto dare un messaggio diverso rispetto a quello che ritengono sia stato di tolleranza del precedente governo. Il nuovo governo avrà il compito di dare un segnale che anche dal punto di vista della sicurezza e della tolleranza sugli episodi di degrado è cambiato qualcosa. Io, in quanto rappresentante del territorio, presenterò al ministro Piantedosi, il nuovo ministro dell'interno che già conoscevo bene per la legislatura scorsa, un piccolo dossier di alcune situazioni che sono oggettivamente particolarmente significative e che possono servire anche come monito per altre situazioni. Il sindaco Nardella sembra averci messo le mani nelle cascine, presidio fisso, raddoppio delle telecamere, non basta? Sono interventi sporadici perché quelli dell'amministrazione comunale sono spot, titoli che nascono dopo magari un episodio che ha indignato la città e in questo senso serve continuità. Io sono orgoglioso quindi del fatto che ci sia una lega al governo che prepara dossier, in questi casi per esempio ha già tematiche pronte come quella della sicurezza e inizia ascoltando i territori. Sul parco delle cascine quindi serve più controlli, servono più divise, quindi più agenti, ma serve anche collaborazione tra amministrazione comunale e il lavoro che farà il nuovo governo. Quindi in questo senso noi ribadiamo a livello locale una proposta che abbiamo sempre avanzato, ovvero sia quella del Tesera alla Polizia Municipale, ovviamente con apposito corso e quant'altro. E dall'altro lato poi che il presidio fisso sia una costante, non sia invece qualcosa di sporadico.